avuto paura cioè di dire momenti in cui che cazzo non ce la faccio oppure momenti di difficoltà o sei sempre andata avanti come un treno no avanti come un trattore sempre sì no devo dire che non ostante le tantissime ore di lavoro nonostante veramente l'impegno della cosa si era creato qualcosa di magico è presente quei lavori quei set in cui cavoli ci sono le persone giuste al momento giusto noi siamo diventati fratelli sono tuttora veramente tra i miei migliori amici quindi vi sentite siete rimasti in contatto poi viviamo certo sparsi per il mondo quindi le occasioni per vederci sono poche però le mie migliori amiche tutt'oggi sono le ragazze di violetta hai trovato anche l'amore su quel set che ha aiutato molto molto sì